Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Marco Travaglio e poi Guersone. Giorgia Meloni stessa dice che si aspetta un'opposizione durissima, ma che non teme il confronto. Abbiamo l'anti Meloni in campo adesso e riuscirà a tenere insieme il PD Ellis Line e quando dicono che è troppo di sinistra si apre uno spazio, come ha detto anche Italo Bocchino, al centro per i moderati e quindi in questo caso specifico per Calenda, Renzi. Ma io ho una vita che sento parlare di questo spazio al centro. Ogni tanto c'è qualcuno che dice abbiamo delle praterie. Più le ho mai viste. Nel senso che in questo momento ci sono quelli che stanno dalla parte del governo, lo hanno votato, legittimamente l'hanno mandato a Palazzo Chigi e sperano che faccia bene. E ci sono quelli che stanno dall'altra parte che notoriamente hanno resistito alle sirene e non hanno votato un governo presieduto comunque da una persona che ancora una volta sembrava nuova come Giorgia Meloni. Adesso si sta già rivelando molto meno nuova di quello che si prevedesse probabilmente anche da molti dei suoi elettori visto che è molto più simile al draghismo e al baidenismo che non a quello che ci si aspettava da parte di chi l'ha votata. Ma in ogni caso starà lì probabilmente anche per cinque anni. Chi sta dall'altra parte farà l'opposizione. Questa roba che c'è un centro che sta all'opposizione ma sta anche un po' nella maggioranza che sta all'opposizione a giorni alterni che ha delle praterie. Ma dove stanno? Non esiste. Ci sarà una battaglia tra i partiti di opposizione che la fanno e cioè il PD e i 5 Stelle e quelli che stanno al governo. Ma Eilish Line, Marco, come posizionerà il nuovo partito democratico rispetto appunto alle alleanze? Conte? Intanto stare all'opposizione non significa fare alleanze. Chi sta all'opposizione ha molti handicap naturalmente ma ha anche la fortuna di non dover fare alleanze e quindi avranno tutto il tempo per discutere fra di loro per trovare... In questo momento non è che il PD non faceva opposizione è che il PD non c'era perché non si sapeva chi chiamare che numero aveva il PD dal 25 settembre. Non sono più esistiti nel senso che parlavano delle loro vicende interne perché giustamente avevano un congresso anche abbastanza astruso come regolamenti e come procedure. Adesso hanno una leader che parlerà e tutti i giorni insieme alla voce di Conte ci sarà anche la voce di Eilish Line e insieme ovviamente secondo me avranno meno difficoltà a trovarsi rispetto a Letta. Intanto perché Eilish Line si è iscritta più o meno quando si è iscritta a Jasmine Cristallo al PD, cioè l'altro ieri. E quindi non può essere accusata di nulla di tutto ciò che ha fatto il PD. Sai, quando Letta diceva aboliremo il Jobs Act, aboliremo il Rosatellum tutti gli dicevano beh, l'avete fatti voi. Adesso a Eilish Line non glielo potranno dire. Quindi questo è un grosso vantaggio. Se vorranno fare la lotta alla precarietà nessuno potrà dire a Eilish Line tu hai fatto il Jobs Act e hai incentivato la precarietà. Per la semplice ragione è che lei non c'era. Non era iscritta. E se vi ricordate cominciò a contestare il PD quando nel 2013 prima col golpe bianco dei 101 contro Prodi e poi col secondo golpe bianco della rielezione di Napolitano si impedì quell'intesa con i 5 Stelle che Grillo aveva proposto se fosse stato eletto insieme da 5 Stelle e PD Stefano Rodotà al Quirinale. Quindi è un appuntamento mancato abbiamo perso 10 anni praticamente. È così, Moni?